in un secondo te lo regoli attenzione polvere negli occhi piede fuori motocross style baba stewart alza un altro bastone guardate che chiappe si vede che fa balestra come il functional straining sta scolpendo il suo corpo decidi di andarsene attenzione salto in salita step up pensavo fosse il river quello linee ubriacanti a 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 attenzione animali tagliano la strada ma il pro non si lascia deconcentrare a a a a a a a a a allora come come pista d'allenamento mi piace